vi insegno un trucco di magia allora dovete prendere questo e questo dopo fare così mettere dentro questo da pallino poi una pallina e metti dentro così una pallina legata dopo fai così e lo butti dentro aspetto che non so come si fa hai detto hai detto hai fatto così lo metti dentro ok ma poter fai così le metti così adesso questo fa così ecco adesso dovremmo farla cadere sta volando guarda segue il cosa c'è guardate c'è vola c'è sta volando c'è sempre questo cosa lo segue perché l'energia statica lo fa di attrazione che però comunque un po si stacca e quindi l'energia lo sia lo stacca che lo stacca in tutto questo in tutto questo è grazie alla calamita che c'è attaccata qua e questo a quello che certo ecco è questo con questi due fanno l'attrazione e si attraggono cioè adesso vola wow non pensavo che funzionasse c'è guardate sta volando con la calamita che ho attaccato qua vola cioè non ci credo ragazzi provatelo funziona funziona c'è provatelo guardate sta volando so che tutti avreste visto il filo che attacca questo e questo però vola veramente è bellissimo è super mega bello dai provatelo a casa provatelo